Fondamentali per lo sviluppo del muscolo sono la sintesi proteica e la riparazione cellulare. Il muscolo scheletrico è costituito da lunghe catene di fibre contenenti proteine. Fasci di migliaia di fibre formano il muscolo stesso. Quando un atleta svolge un allenamento pesante, questa struttura viene danneggiata. Nelle fibre muscolari si formano microlacerazioni. L'organismo rimedia il danno in modo naturale, riparando le fibre. Il risultato è un muscolo più grande e più forte di prima. E a ogni nuovo allenamento l'atleta aggiunge massa, forza e velocità.